Torna l'appuntamento con le stelle di Natale Aile ad Arezzo e la manifestazione è organizzata dalla sezione Aile di Arezzo in memoria di Federico Luzzi. La sorella Francesca che sta portando avanti questa iniziativa, innanzitutto un ricordo di Federico. Buonasera a tutti, quest'anno sono dieci anni dalla prematura scomparsa di mio fratello e da quando è nata la sezione di Arezzo tutti gli anni organizziamo una raccolta fondi che è nazionale sia per le stelle di Natale che per le uova di Pasqua. Anche quest'anno ci trovate in tutte le piazze della provincia di Arezzo e domani ci sono i carabinieri in congedo che ci danno una grande mano sotto i portici quindi se volete acquistare la stella e dare un contributo ad Aile potete recarvi in centro. Anche su prenotazione abbiamo anche la cioccolata che è qui esposta. Con un'offerta di 12 euro c'è dell'ottimo cioccolato al latte fondente. Per qualsiasi necessità posso lasciare il numero di telefono che è 334 25 73 300 rispondo io e vi posso portare il cioccolato anche a domicilio e anche alla pianta. Ecco ricordiamo l'Aile Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma. Esatto sì, purtroppo come tanti sanno mio fratello è mancato nel 2008 per una leucemia fulminante e da quel momento subito dopo abbiamo sentito la necessità di fare qualcosa per far sì che non ci siano più tragedie come queste in altre famiglie. Quindi abbiamo fondato prima la Fedelux e poi il di Arezzo e da dieci anni raccogliamo fondi per l'assistenza domiciliare e per aiutare il reparto in tutte le necessità. Infatti è giusto anche ricordare i proventi dove vengono destinati e qui di Arezzo mi sembra che delle iniziative ne vengono fatte tante, portate avanti dalla vostra associazione. Sì, noi abbiamo questo servizio di assistenza domiciliare sia medico che psicologico, aiutiamo diverse famiglie anche in difficoltà quando ci sono dei ricoveri che vengono fatti fuori Arezzo, quindi chi va a curarsi Siena o Roma o in altre città, diamo dei contributi dove c'è necessità, aiutiamo i pazienti in tutto il loro percorso e anche i familiari e quando c'è necessità acquistiamo materiali sia paramedici, computer, lettini e poltrone per il dei hospital e il reparto di ematologia del San Donato. Allora ricordiamo l'appuntamento per domani, domenica 8 dicembre sotto i portici con l'Associazione Nazionale Carabinieri.